salve buonasera ciao aiuto di più assai come ho promesso stasera vi preparo preparo il mio show mai con l'impasto che ho fatto ieri sera eccolo qua e oggi le mettiamo in questo foglio di show mai questo qua è rotta vabbè non li uso però si trovano nei negozi cinesi giustamente dato che nella loro piatto tradizionale adesso sto facendo la forma così con le mie mani e poi ci metto un pisello sorgelato se c'era il fresco era meglio però non c'è vanno bene anche lo sorgelato questo poi è il banno cotto al vapore this will be cooked as a steam I have already prepared here a steamer with water ho già preparato nel frattempo il bagno maria per fare questo così stasera vi completo come si fa così semplicemente ok bisogna lasciare aperto sopra come lo dispongo nella me lo steamer e poi lo faccio vedere e poi lo faccio vedere e poi lo faccio vedere salutare come come cibo perché viene cotta a bagno maria sembra un po' nel po' nel questo qua qua bisogna spingere un pochettino in mezzo così esce in questa maniera ok ok questo praticamente è un pochettino ok 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 è anche non è molto difficile è solo perché Nel frattempo poi nel fuoco ho già messo, nella pentola ho già messo due zucchine ripiene di questo impasto. Ho voluto fare la prova come viene. 4, 6, 8, faccio una altra paia, faccio 10. 5, 8, faccio 10. 5, 8, faccio 10. Poi questo è buono mangiare fatta all'ultimo minuto. Ok, adesso fermiamoci qui e andiamo a cucinare. Adesso aggiungiamo la corpogliera che sennò si appiccicano, saranno difficili togliere poi. Non si appiccicano. Ok. Ok. Le mettiamo uno a uno a uno. Lasciamo a fuoco. Non si può mettere così nel frattempo. Ok. Chiudiamo e ci vediamo fra una ventina di minuti. Ok, ora è finito. Si, aiuto. Fatta. Cotta. Buono. Mmm, buono. Adesso le mettiamo da parte, così aspettiamo che arriva il gran capo e le mangiamo insieme. e il frattempo assaggio. Ok. I had set aside. Let's wait. Take the chocolate with my husband. And in this plate here I made the sauce for it. It mixed up vinegar and fish sauce and a bit of oil, chili oil. c'è un peperoncino, salsa di pesce e aceto. E così il tingolo di questo cibo qua. L'assaggio ufficiale del mio shoumai per la prima volta. Mamma non potete capire! Buono! la prima volta che faccio e dirò che è come del ristorante buonissimo iscrivetevi ragazzi, amici ciao buonasera, buon appetito